Amiche ed amici bianconeri, mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Guarda, sarà sicuramente molto strano. Giusto prima sono passata davanti il campo qui dove abbiamo sempre giocato a Vinovo e riaffiorano tanti ricordi, momenti che abbiamo vissuto, tantissime vittorie, abbiamo vinto tanti scudetti e penso che Vinovo rimarrà per sempre il nostro cuore e ci ha dato tanto. Però sono felice e entusiasta di iniziare un nuovo percorso in una nuova casa che sicuramente non vedo l'ora perché so che il BL è un bel campo, un bello stadio e ci sono tanti tifosi giventini e quindi non vedo l'ora di iniziare anche lì un percorso nuovo e speriamo che ci porti fortuna. Abbiamo bisogno di giocare nei campi in erba, cambia completamente il contatto con la palla e i rimbalzi e cambia proprio il modo di vedere il calcio. Io amo il campo in erba perché per me il calcio va giocato nel campo in erba quindi secondo me è un passo in avanti che noi facciamo perché avevamo bisogno di cambiare campo anche per questo motivo secondo me perché l'erba si gioca al vero calcio secondo me. Ecco, quindi è una bella domanda ma è così. No, più il giorno della partita, il giorno prima è abbastanza normale. Il giorno della partita ne ho un po'. Allora metto sempre il parastinco sinistro prima, la scarpa sinistra prima ho degli anelli e un orologio, li tolgo quasi sempre prima uno e poi l'altro insomma, nello stesso ordine e quando entro in campo entro sempre col piede destro, non so ormai ma è così e non ne ho tantissime. Infatti prima della partita c'era una pratica lunghissima, però sì sono abbastanza scaramantiche ecco. Sì perché dopo quell'esordio in Champions me lo sono sempre portata dietro perché poi è stata una serie di cose poi l'anno dopo ho cambiato squadra e a Verona ho voluto avere il 13 poi quando sono arrivata alla Juve c'era anche Saragama insomma che è il nostro capitano e va al 3 e io ho voluto assolutamente il 13 perché ho sempre avuto il 3 nei miei anni anche in nazionale quando ero più piccola però poi da quando ho fatto l'esordio in Champions ho sempre voluto il 13 e come mi porta fortuna quindi ci sono molto affezionata. No no sono fierissima di essere i ventino assolutamente io non so spiegarlo è una passione che è nata tramite mio appa e io ce l'ho dentro insomma impazzisco per questa squadra per quando gioca, quando vici, quando perde non lo so è difficile spiegare perché è una passione che ho provato spesso a spiegarmi ma che è impossibile noi c'era questa passione che è inspiegabile insomma. Allora sicuramente non sarà una partita facilissima insomma la Samp comunque viene da un periodo un po' particolare per i problemi che hanno avuto a livello societario però è sicuramente una squadra che cercherà di fare di tutto insomma per iniziare a fare punti e per iniziare bene anche lo campionato insomma però noi giochiamo la nostra prima partita, la nostra prima che è nella nostra nuova casa quindi noi dovremmo partire assolutamente concentrate, dobbiamo vincere assolutamente quindi insomma sono sicura che prepareremo benissimo questa partita e dovremmo andare a vincere. Ah e poi l'altra? No è sicuro che sarà un campionato tostissimo insomma l'anno scorso è stata la dimostrazione la Roma ha fatto una stagione incredibile l'anno scorso a noi penso sia mancata la continuità nei risultati che è un po' quello che ha fatto la differenza in noi gli anni precedenti quindi quest'anno dovremmo affrontare ogni partita come se fosse una finale senza sottovalutare nessuno anche se nella carta sono meno forti di noi però insomma l'anno scorso è stato per una stagione di insegnamenti abbiamo visto che non puoi prendere sotto gamba nessuna partita perché è il calcio è bello per questo perché non sai mai come può andare anche se in teoria sei più forte quindi dovremmo essere molto molto concentrati ogni partita e portare a casa insomma ogni volta la vittoria insomma cerchiamo di insomma l'obiettivo nostro scudetto quindi però ci manca tantissimo Martina è secondo me è un ruolo fondamentale anche all'interno dello spogliatoio e secondo me abbiamo sentito anche la mancanza l'anno scorso a lei gliel'ho detto anche più volte perché come dicevo prima ha un ruolo molto importante nello spogliatoio e purtroppo quel fatto che ha orari diversi la viviamo poco e c'è poco con noi nello spogliatoio cerca di starci vicino il più possibile però è sicuramente secondo me è una c'è mancata l'anno scorso ecco e non vedo l'ora che rientri con noi anche solo anche solo per seguirci e perché anche solo gli allenamenti iniziare a fare con noi perché per noi è molto importante Martina e insomma spero che rientri presto perché ci è mancata molto Martina e insomma